Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo parlando di trasporti perché sono arrivate buone notizie dall'incontro al Ministero dei Trasporti su Ryanair. Il Ministero si è detto disponibile a rivedere l'aumento delle tasse aeroportuali alla base della decisione del vettore irlandese di lasciare le basi di Pescara e Dalguero. Alfredo Primante Il Ministero ha confermato e rilanciato il suo impegno per la riduzione in tempi certi dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Questa è la frase chiave della nota emessa dal Ministero dei Trasporti a margine dell'incontro tenutosi questa mattina con i vertici di Ryanair di Regione Abruzzo e Sardegna a cui ha partecipato anche il Ministro Graziano Del Rio. Dunque si apre uno spiraglio positivo nella difficile trattativa per far restare a pescare il vettore low cost irlandese che due mesi fa aveva annunciato l'abbandono delle basi di Pescara e Dalguero proprio in conseguenza dell'aumento delle tasse aeroportuali. Più in generale, continua il MIT, verrà compiuta dal Ministero una disamina puntuale per ridurre gli oneri impropri sul funzionamento infrastrutturale al servizio del turismo. Inoltre, nell'ambito delle politiche di incentivazione per gli aeroporti e le compagnie aeree, il Ministero apre concretamente alla possibilità di rivedere le linee guida a suo tempo emanate per fronteggiare le problematiche inerenti alla sostenibilità di esercizio degli aeroporti minori e insulari. Soddisfatto il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha visto un atteggiamento di realtà sia da parte degli operatori economici che da parte del Ministero dei Trasporti. Se Ryanair dovesse lasciare i due scali, dice D'Alfonso, verrebbero meno 3 milioni di voli l'anno, una questione non di poco conto anche per le eventuali ricadute economiche. Restano critiche le opposizioni in regione Abruzzo, con Forza Italia che annuncia la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla giornata romana di D'Alfonso, in occasione della seduta urgente e straordinaria del Consiglio regionale, dedicata all'emergenza dei trasporti e richiesta proprio dai consiglieri azzurri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Corruzione economica e democrazia pluralista, a presiedere rappresentanti dell'Ateneo di San Paolo, Brasile, di Buenos Aires, Argentina e di Napoli, e due uomini di diritto, da un lato Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, e dall'altro Raffaele Cantone, dell'autorità nazionale anticorruzione. Tutto ruota intorno al concetto di equilibrio Stato ed economia, quando lo Stato debba avere in carico di intervenire con indirizzi di politica economica, e quando invece, viste le mutate condizioni, la crisi abbia imposto di cambiare i paradigmi sociali. È proprio Giovanni Legnini a sottolineare come oggi i vincoli europei si frappongano all'obbligo dei nostri paesi di soddisfare i diritti dei cittadini con regole ferree. Per un verso ho l'obbligo di soddisfare alcuni diritti, io Stato, per un altro verso avrei intenzione di soddisfare i diritti, per un altro verso ancora ho necessità di superare l'avverso ciclo economico, per un altro verso mi devo attenere, ho l'obbligo di attenermi al vincolo. Questo è il cuore del problema che il nostro paese, a mio modo di vedere, ha affrontato in questi anni e continua, per una parte importante, ancora ad affrontare. Il dualismo tra economia e diritto è il perno dell'intervento di Raffaele Cantone, che apre il suo discorso con una domanda. Quali sono le conseguenze dell'illegalità sul sistema economico, perché spiega solo quando si avrà chiaro l'immobilismo che crea la corruzione, si potrà capire l'importanza della libera concorrenza. La corruzione è un sistema che blocca l'economia, poiché impedisce l'ingresso di nuovi attori. Mica la corruzione è un sistema unilaterale, c'è una pubblica amministrazione cattiva, corrotta, che impone le tangenti e povere persone che pagano le tangenti. Questa è una visione assolutamente sbagliata. La corruzione è un classico reato contratto, ovviamente lo dico agli studenti, è un reato plurisoggettivo che ha la struttura tipica di un contratto, dove c'è un idembelle, c'è un rapporto per il quale due persone vogliono la stessa cosa. Ustioni al viso e al corpo per un cinquantenne di Sulmona che ha tentato di spegnere il fuoco divampato nella sua cantina e nonostante fosse ferito, è riuscito a chiamare i vigili del fuoco, ora è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Grandi Ossionati di Napoli. È accaduto in una casa di Via Piave a Sulmona intorno alle due di Samani. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe sentito dei rumori provenire dalla cantina sottostante. Una volta sceso avrebbe aperto la porta rimanendo investito dalle fiamme. I vigili del fuoco, da lui avvertiti, sono riusciti a metterlo in salvo e a mettere in sicurezza una bombola. Non accertate ancora le cause dell'incendio alimentato sicuramente dalla legna che si trovava nello scantinato. Percolato che finiva nelle acque del Saline con un alto valore inquinante. Questa è la ragione che ha portato la Capitaneria di Porto di Pescara al sequestro dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti di Villa Carmine a cui è seguito un avviso di garanzia rivolto al commissario ad acta Domenico Orlando. La procura di Pescara gli contesta i reati di inquinamento ambientale, danneggiamento, oggetto pericoloso di cose e mancata bonifica del sito. Ascoltiamo. Bomba ecologica sul Saline. Di ieri mattina la notizia del sequestro da parte della Guardia Costiera nell'impianto di Villa Carmine. Il provvedimento firmato dal GIP del Tribunale di Pescara è stato necessario a causa del grave degrado causato all'ambiente. Si parla di percolato che sfociava direttamente sul fiume. È una discarica che già nel momento in cui venne individuata presentava delle criticità perché era proprio a ridosso dell'alveo del fiume e quindi con delle problematiche già noti al suo tempo. Tant'è che anche per questa ragione il Saline è diventato prima sito di interesse nazionale e poi sito di interesse regionale per quanto riguarda l'inquinamento. Ieri è intervenuto questo sequestro ad opera della Capitaneria di Porto ma rientra nella più ampia attività che è stata svolta dalle forze di polizia sul territorio anche su richiesta di questa amministrazione perché l'obiettivo è quello di cercare di portare il risanamento nel fiume di Saline e fare sì che il Saline da problema possa diventare una risorsa. Si è parlato di responsabilità del commissario ad acta. Il commissario ad acta ha ricevuto un avviso di garanzia, credo che fosse un atto dovuto. Adesso nel merito della questione io non voglio entrare perché comunque c'è un'attività di indagine in corso. Ciò che mi preme è la salvaguardia dell'interesse e della tutela della salute dei miei concittadini e dei turisti che verranno qui a Montesilvano, quindi dobbiamo procedere in tempi rapidissimi a cercare di intervenire e risolvere il problema. Ci spostiamo all'Aqui. La ordinanza di sgombero del sindaco Cialente di alcuni alloggi del progetto case di Sassa con le brincioni a rischia per motivi di pubblica incolumità. Intanto gli operai del comune stanno continuando le operazioni di rimozione delle recensioni e dei gazebo nei progetti case iniziate tra mille polemiche proprio il 6 aprile. Gianmarco Menga. Dopo i momenti di grandissima tensione vissuti ieri continua anche oggi la rimozione forzata di fioriere, gazebo e recinti realizzati dai condomini del progetto case negli spazi esterni di fronte alle loro abitazioni. Il comune aveva deliberato lo sgombero forzato dei materiali il 30 marzo scorso con inizio esecutivo dal 4 aprile. La beffarda tempistica ha voluto che proprio il 6 aprile, anniversario da sette anni dal terremoto del 2009, gli operai del comune abbiano iniziato a smantellare i manufatti e le recinzioni di ogni condomino. Rabbia e perplessità da parte degli abitanti del progetto case. Quei recinti non davano fastidio a nessuno, dicono. I problemi sono altri. Il comune pensasse a mettere i contatori e a fare manutenzioni visto che pochi giorni fa è crollato un altro balcone. Non solo, se proprio era necessario rimuovere i manufatti, perché proprio il 6 aprile, giorno della ricorrenza del terremoto? I tempi, l'arroganza e la cattiveria con la quale sono state eseguite queste operazioni. Nessuno toglie che, se bisognava togliere o liberare degli spazi comuni, ok, però così come il comune è in grado di mandare delle raccomandate o avvertire singolarmente le persone di dover poi sgombrare dei diparti comuni, così poteva avvertire che si dovevano liberare alcuni spazi, non con un cartellino dove c'era scritto praticamente che c'erano degli spazi nei garage occupati da altre persone, questo. Poi il 6 aprile una cosa del genere non è ammissibile. Non si capisce a chi davano fastidio, ci sono cose più urgenti da risolvere all'Aquila. Il progetto casa è questo qui, no, ma gli altri sono tutti faticenti, sono tutti da abbattere, soldi sprecati, pagati da noi. Io ho chiesto al comune se potevo fare così e così, tipo questo, si lo puoi fare, poi non l'ho fatto, perché non l'ho fatto in tempo, io ce l'ho autorizzato, mi ha fatto una carta scritta. E poi hanno cambiato idea? E poi è rimasto così, io l'avevo incominciato a fare, ma è proprio utilizzato dal comune. Intanto, sia come sia, al progetto case di Sant'Antonio c'è chi, impugnando trapano e martello, sta provvedendo autonomamente a smontare i manufatti, anticipando il lavoro del comune. E a poco più di una settimana dall'incendio alla Italpaneli di Ancarano, nel Terramano, la procura iscrive i primi due nomi nel registro degli indagati per incendio colposo, due operai di una ditta esterna che stavano effettuando lavori di saldatura sul soppalco. Secondo una prima ricostruzione, infatti, a causare le fiamme, sarebbe stata una scintilla partita dalla fiamma ossidrica utilizzata dai due operai. Nei giorni scorsi la procura ha autorizzato i lavori di messa in sicurezza dell'area, mentre si attendono i risultati degli ultimi accertamenti su area e campioni di terreno e alimenti. I precedenti, ricordiamo, non avrebbero evidenziato alcun inquinamento, rimangono in vigore, però le prescrizioni a suo tempo fissate, sia per il territorio di Terramo, sia per quello di Ascoli, per un raggio di 5 km dalla ditta Italpaneli. E la CGL ha elaborato la nuova Carta dei diritti universali del lavoro e sabato scendrà in piazza nei quattro capologhi di provincia e nei maggiori centri della regione per una raccolta di firme. Paolo Renzetti. Noi abbiamo appena concluso una grande campagna di consultazione in tante assemblee nei posti di lavoro sulla Carta dei diritti. Abbiamo raccolto molti consensi e sabato 9 aprile avvieremo la seconda fase di questa nostra grande iniziativa. Il 9 aprile in tutte le piazze d'Italia e quindi noi saremo nelle piazze di Pescara, dell'Aquila, di Chieti, di Terramo, a raccogliere le firme a sostegno della Carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per un lavoro dignitoso al quale sia riconosciuto un equo compenso al quale sia riconosciuto il diritto alla formazione e non vengano consentiti licenziamenti illegittimi e senza giusta causa. Una carta importante anche alla luce degli ultimi accadimenti e della situazione e dell'occupazione nella nostra regione. E' una carta che parla a tutto il mondo del lavoro per riunificare il mondo del lavoro. Raccoglieremo le firme anche per tre quesiti referendari. Uno per l'abrogazione dei voucher che sono diventati l'esemplificazione del lavoro precario. Il secondo per ristabilire il principio della responsabilità solidale nel campo degli appalti. e il terzo per abrogare quelle norme che rendono facili i licenziamenti illegittimi e senza giusta causa dopo il Jobs Act e non soltanto con il Jobs Act. E a Teramo è arrivato in mattinata il camper dell'Inps che sosta al campus dell'università. Obiettivo dell'ente previdenziale informare sulle modifiche al sistema pensionistico. Vediamo. Studenti e dipendenti dell'università di Teramo hanno fatto visita al campus universitario di Coste Sant'Agostino al bus itinerante dell'Inps arrivato nel capoluogo a Portino per la campagna di educazione previdenziale Vivi il presente, guarda il futuro. Il progetto si pone come obiettivo quello di agevolare una migliore conoscenza del sistema previdenziale nazionale e illustrare ai ragazzi le opportunità offerte dal progetto Garanzia Giovani. In un periodo in cui la previdenza è oggetto di riforme che provocheranno grandi sacrifici ai futuri pensionati e bene che i ragazzi siano informati su cosa li attende e su come possono ottimizzare il loro percorso. Oggi firmiamo anche un accordo per l'attivazione di tirocini nelle sedi dell'Inps, nelle sedi della provincia di Teramo in cui lavoreranno i nostri studenti e tirocini che sono finalizzati anche questi a diffondere una cultura previdenziale che necessariamente deve essere rielaborata. Le pensioni in Italia sono un tema caldo soprattutto dopo la riforma Fornero che ha allungato la vita lavorativa creando polemiche e tensioni sociali. La scorsa settimana i sindacati sono scesi in piazza contro la riforma chiedendo una maggiore flessibilità del sistema pensionistico. Per il direttore dell'Inps Abruzzo Roberto Bafundi il tema della discussione deve essere quello di coniugare la sostenibilità finanziaria con la dignità della vita una volta terminato il periodo lavorativo. Credo che questo sia il tema su cui si dibatterà in futuro per tentare di coniugare entrambe le necessità, quella del contenimento della spesa pensionistica e dall'altro conferire le opportunità a tutti i nostri cittadini di poter mantenere sempre viva la loro aspettativa e di vita. Dare impulso al mercato del lavoro e regalare opportunità di conoscenza fra i giovani e il mondo delle imprese. Questo è il senso della giornata del reclutamento che si è tenuta oggi nei centri per l'impiego in tutto l'Abruzzo. Vediamo. Siamo al centro per l'impiego di Pescara. Oggi è la giornata del reclutamento. Tanti i giovani che si sono presentati questa mattina negli uffici di via Passo Lanciano. Vogliamo spiegare un po' il senso di questa iniziativa? Questa giornata è servita ad avvicinare le aziende al centro per l'impiego, a far sapere cosa che non tutte le aziende sanno, che le aziende possono rivolgersi a noi per selezionare il personale di cui hanno bisogno. Ci sono diversi ragazzi, diversi giovani che sono venuti questa mattina? Sì, in gran parte erano persone che si erano già candidate inviando il loro curriculum al nostro sito, al nostro indirizzo di posta elettronica perché appunto cogliamo l'occasione per dire che le nostre offerte di lavoro vengono pubblicate sul sito pescaralavoro.it, nella apposita sezione. Noi facciamo una prima opera di preselezione di questi curriculum e quindi li inoltriamo le aziende, le quali poi contattano ovviamente le persone che ritengono di dover contattare e che hanno i requisiti che loro cercano. Probabilmente questa iniziativa serve anche per far sapere che non è vero che non c'è lavoro in giro. Di lavoro ce n'è ma non così tanto, non di così grandi qualità come a volte si dice, sicuramente non quanto ne viene chiesto. Operazione anti-contraffazione questa mattina da parte di una decina di agenti della Polizia Municipale presso il mercatino etnico dell'area di risulta della stazione di Pescara. Gli agenti, coordinati dal Maggiore Danilo Palestini, responsabile del reparto tutela del consumatore, hanno provveduto al controllo e al censimento della merce esposta sulle bancarelle degli ambulanti. Gli agenti hanno provveduto anche all'identificazione dei venditori ambulanti, tutti di origine africana e al sequestro di merce risultata contraffatta ai controlli in ausilio della PM e hanno operato anche alcuni agenti della squadra volante della locale Questura. Nel corso delle operazioni non si sono registrati particolari momenti di tensione. Dalla scorsa estate, ricordiamo, si parla della chiusura e del trasferimento del mercato e degli ambulanti in regola in un'altra zona. Trasparenza amministrativa, questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala consigliare di Palazzo di Città a Pescara. Vediamo. Sessore Santa Venere, prima giornata della trasparenza amministrativa in Comune a Pescara, una giornata importante. Oggi noi vogliamo condividere con tutta la cittadinanza, con ovviamente anche i ragazzi presenti in sala consigliare, un percorso di cittadinanza, di condivisione. Infatti trasparenza vuol dire avere la possibilità di conoscere quelle che sono le attività istituzionali dell'ente, ma anche quelle che sono le modalità, le procedure dell'erogazione dei servizi. Quindi per noi è molto importante dare garanzia per quei valori appunto costituzionali, del buon andamento, dell'imparzialità, della realità, dell'azione amministrativa. Quindi soddisfare il diritto di informazione e di controllo che il cittadino ha. La nostra intenzione è potenziare questo con un software che renda addirittura automatico nel momento in cui l'atto viene praticamente prodotto, l'inserimento in questa sezione di amministrazione trasparente. Abbiamo oggi anche proprio voluto parlare di quelli che sono gli strumenti effettivi di dialogo con il cittadino, perché noi crediamo davvero che ricostruire e quindi riconquistare la fiducia del cittadino possa davvero iniziare da un percorso di condivisione di quello che l'ente appunto svolge quotidianamente, ma soprattutto di rendere tutto quello che viene fatto trasparente. Quindi bisogna anche non soltanto parlare di trasparenza formale, quindi normativa, ma anche di trasparenza sostanziale, cioè fare davvero come dire un passaggio culturale. E nel corso del convegno sulla trasparenza amministrativa il consigliere di centrodestra Carlo Masci ha distribuito ritagli di giornale con articoli riguardanti le polemiche sul mare inquinato e sulle presunte omissioni della giunta Alessandrini. Vediamo. Si parla in un convegno questa mattina a Palazzo di Città di Trasparenza, non è mancata la polemica. Carlo Masci avete distribuito al pubblico presente in aula consigliare degli articoli di giornale piuttosto eloquenti, perché? Sì, perché poi i convegni sulla trasparenza lasciano il tempo che trovano di fronte ad un'amministrazione che di trasparente non ha nulla. Abbiamo distribuito un collage di articoli di giornale dove ci sono le intercettazioni di Alessandrini e dei suoi compagni, dove si parla delle ordinanze fantasma. Questa è un'amministrazione che dal punto di vista della trasparenza fa esattamente il contrario nel momento in cui dice che organizza incontri con i dirigenti e con gli amministratori per trovare il modo di eludere le contestazioni dell'opposizione oppure per fare ordinanze che poi hanno avuto un eco nazionale ed internazionale. Ma anche la vicenda dei Pini di Via Regina Margherita, dove nessuno l'altro ieri sapeva che ci sarebbe stata una mattanza, 19 Pini che sarebbero stati tagliati, meno male che li abbiamo bloccati attraverso la sovrintendenza e continuano così questi amministratori e fanno anche i convegni sulla trasparenza. Noi per questo abbiamo distribuito in maniera tranquilla, serena, senza creare problemi questo collage di articoli che dimostra quanto non sono trasparenti. Cambiamo decisamente argomento, il Vinitaly di Verona quest'anno giunge alla cinquantesima edizione dal 10 al 13 aprile e mostra anche le eccellenze vitivinicole e olivicole abruzzesi con un'ambizione aprire nuovi mercati internazionali. Vediamo. Vinitaly 2016 per l'Abruzzo, sempre all'insegna dell'eccellenza, quest'anno cosa cambierà? Quest'anno un'edizione particolare, siamo alla cinquantesima edizione del Vinitaly, la più grande manifestazione mondiale circa il mondo del vino. L'Abruzzo sarà come al solito protagonista con 90 cantine vinicole, con l'Enoteca regionale oltre 400 etichette e soprattutto con la partecipazione all'Agrisol di 23 imprese che operano il settore olio. In un momento in cui si parla soprattutto di mercati, l'Abruzzo in questa occasione a cosa punterà? Ma l'Abruzzo continua questo trend positivo circa il vino. Nel 2015 abbiamo avuto un più 9% di export su questo filone. Stiamo lavorando tantissimo insieme anche ai consorzi di tutela, alle camere di commercio e a tutte le associazioni che seguono il mondo del vino. I territori si distinguono per particolarità all'interno dell'Abruzzo? Sì, ci sono le DOC, le DOCG, una serie di territori competitivi in senso positivo. Porteremo la nostra presenza e soprattutto la nostra biodiversità a Verona con i nostri stand, con le nostre cantine e con tantissime proposte che si svilupperanno sui quattro giorni della manifestazione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Vediamo le designazioni arbitrali per le gare della 35esima giornata, 14esima di ritorno di Serie B in programma sabato alle ore 15. Vediamo Avellino Pescara in programma domani alle 20.30, sarà diretta da Gersini di Genova, mentre Lanciano Entella sarà diretta da Pinzani di Empoli. E mentre la squadra si prepara in piena emergenza all'anticipo di Avellino, il Pescara, ieri sera si è svolta l'Assemblea dei Soci della società Biancazzurra. Ha provato il bilancio con il voto contrario dell'ex AD Giannascoli, che ha detto sì alla ricapitalizzazione. Il servizio. Ha provato il bilancio con il voto contrario dell'ex amministratore delegato Danilo Giannascoli. Questo l'esito non certo a sorpresa dell'Assemblea dei Soci del Pescara, che si è tenuta ieri sera nella sede di Lungofiume Paolucci. L'esercizio si è chiuso con un risultato negativo, come già annunciato, e che richiederà la ricapitalizzazione. La minoranza del gruppo Giannascoli, rappresentata dall'avvocato Rodriguez e dal commercialista Roberto Costantini, ha votato contro l'ultimo rendiconto finanziario, ma ha detto sì alla ricostituzione del capitale sociale. C'è da considerare però che la società bianca-azzurra potrà contare, fra un paio di mesi, sulle cosiddette plusvalenze, che nella prossima estate porteranno diversi milioni di euro in cassa, con le probabili cessioni di Lapadula e Caprali, che rappresentano ad oggi i gioielli di famiglia del Delfino. È quasi certo anche alla luce dell'Assemblea dei Soci di ieri, che resteranno inoptate quote societarie per un 5%, e che potrebbero essere a questo punto rilevate da nuovi imprenditori che potrebbero entrare in società. Due i nomi su tutti, quello di Dino Zampacorta, già sponsor del Pescara, e Guido D'Angelo Antonio. Sempre l'Assemblea dei Soci ha provveduto a nominare Vincenzo Marinelli, presidente onorario del Pescara. Intanto la squadra si prepara alla gara di domani sera ad Avellino con molte incognite, probabile anche il forfè di Zampano, che costringerà Massimo Oddo a fare sordire in difesa il baby Cristian Ventola. Sul fronte organico emergenza piena con 5 difensori out. Al centro agiranno Fornasiere e Mandragora con Vitturini e Ventola sulle fasce. Si tenterà però di recuperare in extremis Zampano. Il tecnico della Virtus Lanciano, Primo Maragliulo, promette ai tifosi il massimo impegno in vista della finale di stagione e dell'obiettivo salvezza, a cominciare dalla prossima gara casalinga contro la Virtus Sentella, sabato. Intanto ieri alcuni rappresentanti della squadra frentana e della società hanno partecipato all'iniziativa tra i banchi, cioè Virtus, incontrando i ragazzi dell'Istituto Scolastico di Castelfrentano. Ascoltiamo ora nel servizio la dichiarazione del tecnico virtussino. È chiaro che la promessa principale è quella che i ragazzi fino all'ultimo secondo dell'ultima partita non molleranno, questo è chiaro. Per quanto riguarda la stagione diciamo che come spesso accade ci sono sicuramente momenti molto positivi, qualcun altro negativo. Diciamo che nel contesto generale siamo arrivati ad un punto dove siamo consapevoli che insieme a tante altre squadre dovremmo giocarci la salvezza. Da un lato è una cosa positiva perché in alcuni momenti della stagione si pensava che questo non potesse accadere e invece adesso siamo lì che ce la giochiamo e come ho detto prima la promessa è che sicuramente fino all'ultimo secondo non molleremo. Andiamo in Lega Pro. Per il Teramo le buone notizie arrivano dal settore giovanile. Due calciatori sono stati convocati per uno stage di allenamento con la rappresentativa Under 16 di Lega Pro nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 aprile presso il centro tecnico federale di Coversiano. Si tratta di Alessandro Fagioli classe 2000 e Federico Mosca classe 2001, entrambi attaccanti. Intanto la prima squadra si prepara alla partita di sabato contro il Siena, match di cui non farà parte Cenciarelli, out per un infortunio. Vivarini invece recupera Speranza nel pacchetto arretrato. Ora andiamo invece ad ascoltare nel servizio Lorenzo Paolucci che parla della sua esperienza con la maglia bianco-rossa. È stata un'esperienza positiva, non mi aspettavo di fare tutte queste partite. Il mister mi ha dato molta fiducia, penso di aver fatto un buon campionato anche essendo giovane e cerco di finirlo al meglio e far bene le altre partite. Anche cose nuove, una bella esperienza, cose che nelle altre squadre non avevo fatto quindi serve per il mio bagaglio per i prossimi anni. Magari non sfruttiamo al meglio le occasioni oppure giochiamo troppo di finezza, non concludiamo mai in porta. Magari questa è stata l'unica, diciamo, questa è la pecca di questo campionato che non riusciamo mai a fare gol, però in allenamento ci impegniamo al massimo. Tutte le azioni cerchiamo di fare gol, anche il mister lo vuole e speriamo in queste altre partite di riuscire a fare più gol. I rosso-blu scenderanno in campo in Toscana con uno striscione in ricordo delle vittime, la volontà della squadra a vincere anche in loro memoria. Vediamo. L'Aquila ha il lavoro per preparare la prima delle ultime cinque gare di campionato da cui passerà la salvezza degli uomini di Perrone. Domenica pomeriggio si va a Prato con il ricordo nel cuore delle 309 vittime del terremoto di sette anni fa. Dopo la commemorazione del 6 aprile, anche prima del fischio d'inizio, gli uomini di Perrone ricorderanno i morti del sisma, scendendo in campo con uno striscione preparato dai familiari delle vittime. Per il rosso-blu potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo extracalcistico per centrare la vittoria, regalare un sorriso ai tifosi e avvicinare l'Aquila alla salvezza. Questo è il pensiero anche di uno dei protagonisti annunciati, l'esterno d'attacco all'occorrenza fantasista Vittorio Triarico. Questo giorno per gli Aquilani è un giorno molto triste e noi siamo fortunati di giocare subito dopo tre giorni e dovremo cercare di regalare un sorriso a tutti gli Aquilani. Intanto sul fronte formazione a Prato mancherà per la squalifica il centrale difensivo Giordano Maccarrone. Il tecnico Carlo Perrone dovrebbe però confermare la 3-5-2 inserendo in difesa uno tra Sanni e Bruno nel trio davanti al portiere Scotti. Sulla fascia è probabile l'esordio di Cristian Chirieletti, fresco di tesseramento, mentre in avanti stanno salendo le quotazioni di Andrea Mancini per una maglia dal primo minuto. Ed è tutto per questa seconda edizione. Prima di chiudere ricordo l'appuntamento su TV6 delle 21 con Velo, la trasmissione interamente dedicata al mondo del ciclismo e poi alle 23 la terza edizione della TG6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.